ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica riders of the lost film e questa volta andiamo indietro nel tempo ancora negli anni 70 per l'esistenza al 1974 quando uscì il film cani arrabbiati diretto da mario bava uno dei pochi esempi di thriller on the road diretto da uno dei grandi maestri cinema horror ovvero mario bava ne parlo con grande piacere con pierpaolo buonelli ciao pierpaolo buongiorno ciao giulio un film maledetto abbiamo scelto per questa riscoperta questo salto questo sguardo indietro nella storia del cinema un film maledetto che insomma ha un sacco di aneddoti oltre aver ispirato anche altri registi sì tantissimi primis il buon quentin tarantino ma poi lo racconteremo perché il film di che cosa parla parla di di una di una rapina siamo in pieni anni 70 di una rapina da parte dei quattro veramente ceffi loschi ceffi che fanno una rapina nella banca durante questa rapina uno muore e gli altri tre riescono a scappare scappano con la loro macchina vengono inseguiti dalla 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 polizia scendo dalla loro macchina perché viene forata una una gomma e salgono sulla macchina dove su quest'altra macchina ci sono due sfortunati un uomo e di una certa età e una donna e soprattutto in quella macchina c'è un bambino che affetto da una grave malattia una febbre molto forte loro lo devono portare assolutamente in ospedale ma il tragitto non andrà verso dell'ospedale perché questi tre malavitosi li prenderanno in ostaggio e inizierà per loro il il loro viaggio più pericoloso dove ne succederanno veramente di ogni si il film dunque diciamo che un film maledetto maledetto per tanti motivi perché ha avuto un sacco di travagli dal punto di vista finanziario produttivo distributivo perché non è non uscì al cinema per più di vent'anni maledetto perché i personaggi sono decisamente maledetti sono dei cani arrabbiati e questo ha creato questa questo questo mistero questa aura intorno a questo film di bava aumentando anche poi insomma la fama naturalmente a posteriore perché ormai mario bava ci manca da più di 40 anni esatto ricordiamo anche giusto quello che hai detto che il film è distribuito in realtà 20 anni dopo e a favorire la distribuzione è stato anche una delle protagoniste del film che è lea kruger che interpreta maria che è la mamma di questo bambino che deve essere portato assolutamente in ospedale anche protagonista di alcune scene molto molto violente perché quei protagonisti che tu citati erano delle facce sporchissime avevano anche dei nomi in codice come il dottore 32 bisturi insomma tre chef decisamente poco raccomandabili è un film appunto ha più di 40 anni di distanza un film che regge benissimo il tempo e soprattutto a una una caratteristica che poi ha fatto anche scuola perché se pensiamo ai vari film on the road di inseguimento diciamo che qua c'è abbastanza la matrice ovvero un gran ritmo e continuare a far avvenire cose colpi di scena per cui sei sempre intenzione sei sempre in attesa di scoprire come finirà questo viaggio e soprattutto se il bambino anzi il bambino il neonato riuscirà ad arrivare in in ospedale un film frenetico che dimostra che mario bava al di fuori del della sua zona di cinema di genere come quello dell'oro che l'ha reso immortale anche in un genere thriller mare anche un po poliziesco se la cava egregiamente ci sono delle inquadrature strettissime è tutto girato dentro un auto specificiamo quindi siamo negli anni 70 non c'è la tecnologia che abbiamo oggi dove possiamo mettere telecamere ovunque ecco mario bava tira fuori un gioiello che noi abbiamo chiamato cani arrabbiati che è il suo titolo ma in realtà è un film che ha tanti titoli è stato intitolato anche semaforo rosso è stato intitolato all'estero con il titolo in inglese rabid dog che richiama il film di appunto come abbiamo citato prima di quentin tarantino le iene che in lingua originale reseruar dogs sì c'è un altro titolo che per esempio venne distribuito in dvd in germania come kidnapped cioè appunto il rapimento di rapimento di bambino quindi sequestro e e ricordiamolo è tratto da un da un racconto da un racconto di michael j carroll che si titola l'uomo e il bambino che venne pubblicato in coda un giallo mondadori appunto negli anni sessanta e venne poi venne poi sceneggiato da alessandro parenzo però due parole su queste busti brutti cefi perché vabbè uno il dottore moris poli va bene però gli altri due insomma sono due personaggi pazzeschi perché uno è george eastman che interpreta 32 e che è una di quelle facce da anni settanta ma il bisturi è un cantante c'è don bacchi il signor dimmi quando 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 riccardo rovatti all'anagrafe sì e diciamo che è un loro tre sono perfetti sono perfetti perché rappresentano il lato sporco degli anni degli anni settanta sono anche abbastanza anzi abbastanza sono molto ospitati in particolar modo riccardo rovatti è al coltello facile il personaggio ovviamente al coltello facile durante il il viaggio questa terribile viaggio ucciderà anche delle persone non svegliamo chi all'interno della 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 macchina e lo stesso anche gabriele duma che interpreta 32 e anche lui un ceffo poco poco raccomandabile sono tre volti e aggiungiamo anche renato cecchetto che fa il dottore sono tre volti veramente brutti veramente pericolosi e visti a distanza funzionano ancora molto molto bene sono i cani arrabbiati film di mario baba che i riders sono andati a riscoprire quest'oggi beh noi vi invitiamo a andare a a cercare a così a frugare nei 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 cassetti delle varie televisioni in streaming per andare a trovarlo e divertirvi come ci siamo divertiti noi assolutamente per questo appuntamento con riders of the lost film è tutto come sempre grazie per paolo ciao a tutti e alla prossima